SIGUE ARTUR 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 Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ha ha ha. Oye dali, sai. Sa kala mo ba? Makakaalis pa kayo dito ng buhay? Mamamatay na kayo ng lahat! At pati ito kasamang mamamatay! Sir! Naisan tayo! Naisan! 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 Pulha moen koko! Naisan! 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 Donnie! Donnie, donnie, donnie! Daddy! Daddy! Clariss! Clariss, Annot! Donnie, 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 donnie! Ha, ohsia ti dranno? Certo, non si c'è un'è? Traitor! Padua! Abbiamo fatto il punto che ci Prancio! E poi vuoi che il vostro passo! Metti mesi avese a tutti i nostri sp mãozoni, Dadi! Raiono qui, Mi chiamano i figli! Anche bene, le mie amici! Mi chiamano! Qui si è iniziato! Sì, si no, no, no! Non si è così! Si! Oggi! Faici l'ho fatto! Clarice, sei che tu! Scusate, io sono in giro! Faici l'armi! Faici l'armi! Faici l'armi! Faici l'armi! Faici l'armi! Voi che ti riparo, Clarice! Sì. Ma sono i ragazzi? Sono i ragazzi di più. Tutto la nostra. Oggi siamo! Oggi, oggi. Il servito di Sir Cardo, ci siamo qui. Oggi sono qui. Oggi sono i ragazzi! Cardo, ci sono i ragazzi! Mi chiede! Mi chiede! Mi chiede! Mi chiede! Mi chiede! Mi chiede! Ma hai, tuoi! Ma, ci sono i ragazzi di Patua! Si chiede di loro! Non ci sono i ragazzi di pranzo. Non ci sono i ragazzi di chi non ci sono. Ecco, E se è quindi! I risultato! Ma! 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 La! Ma! 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 A presto! A presto! A presto! A presto!